Nella Francia ci sono caratteri e personalità differenti, ma tutti devono essere consapevoli di cosa è buono e cosa non è buono, di cosa è permesso e di cosa non è permesso. E questo non è sempre stato chiaro negli ultimi anni. Voglio un gruppo che invece lo sappia. Ci sono tre parole d'ordine per la mia squadra. Rispetto, umiltà e divertimento. È questa la squadra che voglio. Umiltà e divertimento.